Procuratore Capoccia, come procede la ricostruzione della rete di comunicazione avvenuta prima della tragedia? Questa non è una conferenza stampa, è solo un atto di rispetto nei confronti di tutti voi che state seguendo con grande attenzione in questi giorni questa immane tragedia a Crotone. Soltanto per dirvi che stiamo lavorando in maniera puntuale, non ci stiamo fermando un attimo. Come abbiamo detto, fin dal primo momento stiamo acquisendo tutti gli elementi connessi a questa vicenda e ciò che riguarda i momenti precedenti, il disastro, il naufragio. Siamo già a un punto di un certo interesse, stiamo raccogliendo tutti gli atti. Da parte nostra non ci saranno comunicazioni finché non avremo raggiunto dei punti di certezza su quanto è successo prima del fatto. Tutto quello che esce non esce certamente dai nostri uffici, ce la stiamo mettendo tutta. Siamo, ripeto, a un buon punto di ricostruzione della rete, dei comunicazioni che sono avvenute prima dell'evento. Dovete però avere un po' di pazienza perché non sono cose che si possono puntualizzare in poche ore e abbiamo bisogno ancora di qualche giorno.